A presto 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 e tu fai molto profondi, molto annibili, quando tu capisci come. Siamo capire molto avicare in questo senso. Quali di fare più di prima, tu capisci come. Quali di fare più di prima. senza pensare che tu farò, tu ducchi fai già. Nuccesi che tu farò qualcosa di farò che tu farò prima di farò che tu farò. Questo è la vita, senza pensare che tu farò qualcosa di farò che non ci farò. già da guard barbacchia naate hai khate pite hai l'eccan bina samoshke bina samoshmana bina zoro ratta abisome kio kha raha hai pata inizia coi d'o 4 loco raha hai iso per me ho anche da non ho capito due o cattro cattro ciò che rara per me ha per me non ho capito che tutto ciò che vuoi tu fai ma che che tu fai che 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 ma donna ma donna ma non mai Siamo in questo senso. allora ti piacciono la presa diccia di 69 quindi se di 17 12 ore quando si avrete quando ci sono usse ci si mi accanto prima tu sòcherò questa è qu'è la storia qui è? Sì, tu pensi. 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 Tu pensi. Tu pensi. Tu pensi. Tu... Tu... Tu pensi. 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 Tu... Tu pensi. 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 Chega. Tu pensi. Si Everyone. Karana. Tu pensi. million feedback. Telephone. Tu pensi. dove tu spieghi carano, tu spieghi, tu spieghi, e'e'e una volta che tu spieghi, ti spieghi, ti spieghi. Grazie a tutti. 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 , , , ,... ,... ,... ,... ,... ,...,... ...,...,...,...,...,...,...,...,.je... che questo è come. grazie a tutti La nostra immagine è un'amore, che ho vedi le mie faccio che l'amore. Questo mi ha desperato, perché io mi porto non mi sono se cacciate da bambina. Bella questa è la bambina. bacciò che andrò qui sari buraiya non scala e e un'e sarvagun sampanna bani e es l'e tu m'ha re 99% bava non d'eccita bava ho 1% d'eccita 1% d'eccita j'e com è comì è tu mi giù bato mi shrimat per chalti ho vò bava kabbì nè d'eccita tu m'jinn par nahhi chalti ho vò bava d'eccita hai t'a ki tu m'chal sakhou is lì dhyan rakhna shrimat percentage me nahhi follow ki jati shrimat hundred percent follow ki jati hai pehle tu m'samjho korn shrimat dhe raha hai tu m'korn ho shrimat dhenne wala korn hai isse tu m'samjho to tu m'apne aap chaloghe tu m'he chalna nahhi padega tu m'he shrimat dhenne wala pata nahhi hai aur tu m'he tum bhi pata nahhi hai tu m'joh khud ho tum bhi pata nahhi ho isse una seconda a seconda non è 100 di 100 di e di Dato I B Un Par Good Evening E Sada Khus Rahna Ma Rahna Rav Bar E S Grazie a tutti. Grazie a tutti.